Hai detto tutto, questa è una bella vittoria contro una squadra comunque molto organizzata, una buona squadra e bisogna continuare così, adesso dobbiamo innovare in casa, è una partita attrettanto importante bisogna arrivare prima la possibilità alla salvezza e poi toglierci le altre soddisfazioni Spesso si è detto che il limite di questa squadra è che gioca bene, è brillante ma magari raccoglie meno di quanto meriti invece oggi avete dimostrato anche grande concretezza Sì è vero, tante volte giochiamo tanto bene e poi non ne concretizziamo come sapere lo scorso contro la Juventus Bisogna però continuare a giocare bene, solo giocando bene stiamo avanti, quindi bene così e avanti alla prossima Mi dai una percentuale di salvezza dopo la vittoria di oggi? Adesso siamo un po' più del 50%, un 70% Perfetto, grazie, ringraziamo Marchesa